Questa iniziativa è nata dalla realizzazione del Manifesto Autonomia delle Arti, intorno al quale si sono raggruppati artisti intellettuali, uomini di cultura, studiosi, galleristi, operatori culturali e anche imprenditori che hanno deciso di creare una vasta area di relazioni per sensibilizzare le istituzioni all'arte e alla cultura. Buongiorno, io sono la dottoressa Ana Maria Caporizzi e ho curato la mostra I Tri Arti Collection Show. Perché Collection Show? È l'esposizione della collezione della galleria I Tri Arti e voglio mettere luce sui giovani artisti emergenti che hanno una propria autonomia artistica, il proprio genus, proprio per dare una nuova faccia alla stagione culturale che noi vogliamo inaugurare oggi. La mostra sarà inaugurata il 14 novembre alle ore 18 e sarà visibile fino al 14 gennaio 2016. È stato il frutto questa esposizione di tante menti dissonnite e hanno dato il loro contributo proprio per creare l'alba di una nuova stagione artistica e il fine di promuovere sia a livello territoriale, regionale sia a livello nazionale gli artisti emergenti, emergenti, accompagnati dai loro grandi maestri e dalle loro guide intellettuali e artistiche. Quindi l'agurio che mi faccio e spera anche il fautore di questa esposizione, il maestro Carlo Fusca, presidente dell'Associazione Culturale I Tri Arti e Autonomia delle Arti, è che le istituzioni possano essere sensibili a questo movimento in quanto promuove i giovani artisti che escono dalle istituzioni accademiche e universitarie e hanno bisogno di essere guidati in questo loro inizio lavorativo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!